Si chiama Carta dei sentieri e delle escursioni e rappresenta un itinerario all'interno della riserva naturale del monte San Vicino e del monte Canfaito. È stata presentata a San Severino Marche ed è edita dalla comunità montana. Maurizio Bolognini della Visibilio Edizioni, lei ha realizzato questa carta, non solo pubblicata, ma anche realizzato le foto materialmente. Questa è una carta che nasce dopo un'attenta esplorazione del territorio, quindi tutta la parte escursionistica, che significa percorrere i sentieri in modo da averne la sensazione, il livello, le caratteristiche, e poi dopo riportarli graficamente su una base cartografica, quindi alla prima parte che è quella dell'esplorazione, e poi dopo segue quella della grafica, ossia di creare la cartina vera e propria. Gianluca Chiappa, presidente della comunità montana di San Severino, l'ente gestore della riserva naturale del monte San Vicino e del monte Canfaito. La riserva con questa carta finalmente si fa anche conoscere agli escursionisti. Era un atto dovuto perché un territorio diventa riserva per conservare e per valorizzare alcune aree che vale la pena proteggere. Noi crediamo che la protezione debba e possa essere coniugata con la fruizione, quindi abbiamo sempre detto che non apporremo vincoli particolari al territorio della riserva, ma cercheremo di farla diventare un luogo sempre di più fruibile. È chiaro che per arrivare a questo devi fare degli interventi strutturali, devi fare promozione, mettere in mano ai visitatori una documentazione che permetta loro di conoscere gli aspetti di rilevanza storici e naturalistici del territorio, ma anche di poterlo fruire e di godere delle infrastrutture e di tutto quello che il territorio offre. Uno degli obiettivi più significativi è proprio quello di rilanciare i nostri territori, che sono territori straordinari sia a livello ambientale che pieno di cultura, pieno di storia, quindi con questo progetto, con questa riserva, riusciamo anche a ottenere delle risorse che ci permette di valorizzare e di promuovere il territorio. È un'ottima occasione questa per rilanciare il turismo dalle nostre parti, un turismo che sia particolarmente rispettoso comunque della natura, non impattante. Noi ne parlavamo proprio ieri sera in Giunta, non saremmo mai disponibili, ad esempio, qualora ci fossero anche le autorizzazioni necessarie, ad asfaltare la scenografica e bellissima strada che porta da Gaglioli ai prati di Gaglioli, perché ci sarebbe un turismo di massa che andrebbe sicuramente ad incidere negativamente su quello che poi è lo scenario paesaggistico che c'è sul territorio, sulla fauna e su tutto il resto.